Oltre 26.000 euro versati dai pazienti alla cassa dell'ospedale ma finiti però nelle tasche di un dipendente dell'ufficio. È successo a Cagli dove un'indagine della Guardia di Finanza di Pesaro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Urbino, ha portato al sequestro di beni nei confronti del dipendente. Le autorità hanno scoperto che l'impiegato dal 2010 al 2015, dopo aver eseguito le operazioni di incasso, simulava la restituzione del corrispettivo agli inconsapevoli utenti, attestando falsamente lo storno delle fatture, mentre il denaro in realtà finiva nelle sue tasche. Le indagini dei finanzieri hanno portato quindi alla denuncia per peculato del dipendente che è stato immediatamente licenziato e sottoposto ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalenza dei beni fino al raggiungimento della somma indebitamente sottratta. Dispiaciuto l'intero personale sanitario dell'ospedale Celli, già approvato negli ultimi anni dalla parziale chiusura dei reparti, che si augura venga fatta chiarezza al più presto su questo brutto episodio, in una realtà che è da sempre stata un punto di riferimento fondamentale per migliaia di persone, a Cagli e nelle comunità vicine.